ragazzi da dove inizio? da dove inizio? c'è una partita quasi incommentabile sono successe così tante cose in questa partita che veramente faccio fatica a raccontarvi un po' di tutto e parlare un po' di tutto anche perché se parlare veramente di tutto qua si fa si fa notte ragazzi Lazio Empoli Lazio Empoli all'Olimpico finisce 3 a 3 3 a 3 ragazzi cioè che partita abbiamo visto? che partita abbiamo visto? rigori gol anullati che partita abbiamo visto ragazzi sicuramente possiamo dire che la Lazio come al solito prende troppi e tanti gol questo è poco ma sicuro ragazzi la Lazio prende troppi gol oggi ne prende altri tre questa difesa va un po' aggiustata si ferma Cerbi oggi che comunque ragazzi purtroppo ha avuto una contratura muscolare poi si ferma anche un terzino dell'Empoli perché comunque come si fa come si sa quando ti fermi un attimo che ci sono le vacanze e poi ricominci a giocare a volte il corpo smette di di avere la sua solita routine ed ecco lì che arrivano gli infortuni un Empoli che ragazzi parte subito forte con Bayrami su calcio di rigori dove trasforma e parte su con nazionale stracoscia un calcio di rigore che comunque ragazzi c'è purtroppo la palla di Nizai è molto timida per il portiere è troppo corta e anche lo stesso stracoscia ragazzi comunque esce in ritardo e quindi bravo di Francesco a capire tutto anticipare il portiere e farsi fare il pallo e Bayrami poi lo spiazza e trova gol del 1 a 0 subito dopo ragazzi la seconda azione dell'Empoli altro secondo gol palla di Bayrami per l'esterno all'esterno arriva a Bayrami Bayrami col cross al centro forte per di Francesco prova a fare un colpo di tacco dove però non riesce a passare perché c'è Luis Felipe di Prebravo in chiusura quella palla però che chiude Luis Felipe ragazzi va a Zurkowski che comunque di destro fa fa gol del 2 a 0 risponde subito con la Lazio perché risponde subito con il solito Ciremobile ragazzi che su una bellissima palla di Milenkovi Savic lui davvero attaccante fa un gol veramente molto bello perché praticamente girato spalla alla porta non la vede ma la sente spizza quel pallone tanto che basta per trovare il gol nell'angolino e fa veramente un bellissimo gol Ciremobile in questo caso veramente molto molto bello un ragazzo che poi nel primo tempo dopo il primo gol attacca perché prova ad attaccare l'Empoli se non sbaglio fa solamente un tiro al volo centrale però parto la stracoscia mentre la Lazio attacca tanto ragazzi ha avuto l'occasione con Felipe Anderson di battuta ha avuto un'occasione con Milenkovi Savic dove la palla esce fuori di poco ha avuto un'altra occasione con Immobile dove comunque lì Vicario ha fatto una bella parata sempre su Immobile si distende bene Vicario ma lì c'era un fallo di pedo quindi non possiamo neanche considerarla perché il gioco era fermo poi c'è stato quel contropiede bellissimo di Luis Alberto dove lì davanti alla porta Luis Alberto secondo me col mancino doveva spaccarla quella porta non l'ha fatto previsto il colpo di tacco lì per Felipe Anderson che però quel colpo di tacco purtroppo era troppo leggermente lungo infatti perde un po' un attimo dei tempi di gioco Felipe Anderson per arrivare sul pallone che poi comunque tira col destro e trova quasi l'incrocio di palia perché comunque la palla viene scheggiata dalla traversa quindi l'occasione c'è sempre stata però lì tu per tu col portiere fosse stato in Luis Alberto io avrei tirato ragazzi avrei tirato sicuramente col mancino e avrei suonato la porta nel secondo tempo parte fortissimo a Lazio la prima occasione ce l'ha Immobile ragazzi poi ce l'ha subito dopo anche Pedro se non sbaglio dove conquista palla Pedro che comunque ne ha avuto anche una nel primo tempo nel secondo tempo sicuramente poteva anche stoppare andare sul mancino invece di prima intenzione ha voluto tirare col destro e la palla va alta sopra la traversa di poco però poi ragazzi la Lazio attaccando 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 bene o male riesce a trovare il 2 a 2 ragazzi e lo fa con Milinkovic Savic dove è un bel cross di Felipe Anderson a tagliare Milinkovic Savic comunque funge da attaccante in più perché in quel momento era sempre lì davanti perché la sua molla no? lui è alto di fisicità e non solo d'altezza comunque copre bene l'aglio di rigore e quindi la pari di Felipe Anderson fa sì che comunque Milinkovic Savic col destro di prima al volo segne e trova il gol del 2 a 2 nel momento mio della Lazio nel momento mio della Lazio ragazzi arriva il gol dell'Empoli il 2 a 3, il 3 a 2 dell'Empoli ragazzi Marchizza praticamente sulla fascia supera Isai se non sbaglio adesso non è colpa chi era Omarosic comunque lo supera troppo solo Marchizza troppo solo è in tenare di rigore serve al centro di Francesco con un passaggio corto da Zoterra e di Francesco di prima ragazzi trova il tapin fa il gol del 3 a 2 ma lì la Lazio troppo ferma nel momento mio della Lazio l'Empoli comunque bene o male riesce a trovare il gol riesce comunque a portarsi in avanti poi ragazzi iniziano anche gli episodi perché iniziano anche gli episodi vanno detto inizialmente c'è l'albito c'è la Lazio che chiedeva un calcio di rigore su Zaccagni lì non l'ha andato e secondo me è giusto annullarlo perché entrambi i giocatori ragazzi erano in corsa guardavano il pallone non si guardano tra di loro ci sarà un incrocio di gambe Zaccagni va per terra e lì secondo me è giusto annullarlo di rigore perché il contatto non era volontario arriva poi il gol della Lazio ragazzi dove su Patrick su un calcio d'angolo di Luis Alberto perché parole controlla un po' la palla con la mano e la manda in porta per il gol del 3 a 3 l'abito fa un casino tre ore ad aspettare il VAR sembrava inizialmente che poi l'avesse anche dato tutti i risultati poi invece no l'abito decide di aspettare alla fine va l'abito al VAR a vedere se comunque quel tocco di mano c'è il tocco di mano ragazzi c'è allora è vero che è attaccato abbastanza al corpo però dal momento in cui anche se è attaccato al corpo tu quella palla me la butti dentro con la mano è normale che il gol non è valido cioè comunque non puoi segnare di mano anche se tu non l'hai fatta apposta che cerchi di togliere il braccio e il pugno io ho visto proprio il pugno di Patrick che comunque ragazzi manda la palla verso la porta e quello non può essere mai tre ore per decidere una cosa del genere quando c'è il VAR alla fine e alla fine dei conti ragazzi lo hanno annullato lo hanno annullato questo gol quindi non se ne fa nulla la Lazio è sempre in svantaggio poi subito dopo poco ragazzi arriva il calcio di gore per la Lazio finalmente questa volta viene assegnato su un fallo di Luperto un contrasto aereo tra lui tra i mobili e Luperto ragazzi Luperto ha per troppo il braccio da una specie di gomitata quasi o bracciata comunque ai mobili sulla faccia il mobili va per terra e lì l'abito dal calcio di rigore con lì ho il rigore che ci può stare Luperto poteva anche evitare di allargare il braccio va in mobile che comunque ragazzi tira sempre forte ma non tanto angolato infatti Vicario comunque intuisce il pallone e la para ragazzi para rigore a ciro immobile perché oggi non ha fatto un bellissimo rigore potente ma non troppo angolato Vicario comunque ha intuito l'angolo e ragazzi para anche rigore immobile Vicario tiene ancora vivo l'Empoli sul 3 a 2 ragazzi comunque non ci sta attacca 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 e poi ragazzi arriva la doppietta personale per i Milinkovic Savic che su un bellissima palla di Zaccani un cross bellissimo di Zaccani Milinkovic Savic svetta in area di rigore di testa e batte comunque Vicario ragazzi Savic ha messo in difficoltà molto a difesa dell'Empoli oggi perché ripeto la sua stazza fisica comunque ha fatto sì che comunque si poteva imporre in area di rigore come attaccante aggiuntivo e alla fine ragazzi ha premiato questa cosa qua Milinkovic Savic sicuramente i migliori della partita ha due gol e un assist è un giocatore veramente spaziale quindi una partita dicca di tante cose però sicuramente vanno fatti complimenti anche all'Empoli di Andrazzoli che comunque si dimostra anche oggi una squadra forte perché comunque a prescindere lasciamo stare il 3 gol che ha subito che quindi significa che in difesa c'è qualcosa che non va però ragazzi andare a far trattare all'Olimpico contro la Lazio non è mai semplice non è mai scontato quindi ha imposto il suo gioco anche oggi l'Empoli è comunque il suo l'ha detto cioè comunque va via con un punticino all'Olimpico di Roma e per loro è un punto d'oro nel senso comunque tanta roba questa squadra qua di Andrazzoli brava l'Empoli complimenti la Lazio ragazzi ovviamente in casa secondo me era più chiamata a vincere che a pareggiare per quanto oggi doveva affrontare un'Empoli che sappiamo che l'Empoli come oggi che è fortissima come squadra è una squadra che gioca veramente bene a calcio se sempre la Lazio giochi comunque all'Olimpico in casa dovrà cercare di portare a casa i 3 punti e così non è stato quindi è un mezzo passo falso da parte dei bianco celesti che dire la Lazio deve un po' rivedere la fase difensiva perché nei primi 8 minuti è già sotto 2 a 0 ragazzi tu in 8 minuti non può essere già sotto 2 a 0 in 8 minuti l'approccio alla gara oggi è stato sbagliato da parte della Lazio invece l'Empoli nel complesso ragazzi visto che è l'Empoli ha giocato bene ragazzi ha giocato bene non che la Lazio non abbia giocato male perché comunque ha fatto bene niente ragazzi oggi è che il video può finire qua quindi se vi piacerebbe lasciate un bel like mi raccomando come in descrizione i commenti fatemi sapere a voi appunto cosa ne pensate di Lazio-Empoli partita incredibile e soprattutto ragazzi anche se vi fa piacere quando iscrivetevi al canale che è importantissimo non costa me per vedere tanto ragazzi basta che fate un click su iscriviti se siete iscritti senza cossi nulla mi si parte un casino e ragazzi se lo fate vi ringrazio di cuore condivetevi il video anche con i vostri amici e fate iscrivete anche loro così cresciamo insieme attivate la campione tipica così non perdete i vostri video ragazzi che poi dopo uscirà la post partita di Roma-Milano e poi vediamo se la Juve giocherà e passate su anche al link in descrizione dal bar di Fosiciani mi raccomando e dal link di Amaglia qui da me che è tutto bella